eccoci qua oggi facciamo la zucca allora questa nella teglia tagliata a dadini sono circa 400 grammi di zucca ho aggiunto un filo di olio e una spolverata di zucchero perché questa mi servirà per farci i muffin o un tortino mentre da quest'altro lato sto facendo la zucca grigliata con olio sale e dopo aggiungerò un po di rosmarino ecco il risultato della zucca che ho grigliato eccolo qui buonissimo ho aggiunto dell'olio sale e delle lamelle in uno spicchio d'aglio a fettine andate che meraviglia questa è quella grigliata questa invece l'altra quella dove spolverato lo zucchero e lo frullata questa mi servirà per fare altri dolci come per esempio dei muffin e tortini oppure è utile se non mettete lo zucchero potrete usarlo per le zuppe sempre 190 per 25 minuti però questa va inserita in una teglia antiaderente con un po di olio questa necessità della teglia perché così si asciuga molto di meno dell'altra entrambe le ricette sono fatte con la zucca